Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, eccoci finalmente tornati con un nuovo episodio della serie di ForteTipsItalia Qua come al solito è PIS che vi parla, quest'oggi sto di portare un video che riguardasse come vincere ogni partita, ovviamente di torneo Allora, vi voglio portare direttamente nel game, ok? Questo game è stato ripreso direttamente da una delle mie partite giocate di recente Era un torneo di trio cash cap, in particolare nel server Middle East Stavamo giocando tutti con un ping molto alto, appunto perché noi siamo tutti collegati dai server europei Come potete vedere, qua ci siamo presi il tempo necessario per posizionarci in high ground In questo meta di gioco attualmente è molto importante posizionarsi per AIG, ok? Perché questo? Questo è molto importante perché chiaramente posizionarsi in high ground fa sì che voi lo riuscite a tenere sin da subito Però, attenzioni, quali sono i punti fondamentali a cui fare attenzione? Il primo punto è sapere quando prenderlo E la domanda sarà quindi, quando lo dobbiamo prendere PIS? Allora, ci sono due opzioni La prima è prenderlo alla 50, ok? Quindi nel momento in cui vedete l'abbiamo preso noi Nella 50-50, quindi la zona che per metà è dentro la mappa e per metà è fuori dalla zona Quello può essere uno dei due momenti in cui prendere high ground effettivamente Il secondo momento in cui poter prendere high ground in questo meta è durante il late game Quindi in una fase di prima, seconda moving ad esempio Se riuscite a sniperare o a laserare uno dei player che sta dominando l'high ground In quel momento potrete provare a prenderlo, ok? Però al di fuori di queste circostanze prendere AIG in questo meta di gioco attualmente È davvero, uno, molto difficile Due, molto svantaggioso Perché, cioè, a meno che non si crea la situazione giusta Diventa una cosa davvero, un'impresa, non dico impossibile, ma quasi, ok? Quindi mi raccomando Se avete intenzione di giocare AIG durante una determinata partita Sappiate che per prenderlo o lo prendete durante la 50 Oppure dovrete crearvi voi stessi un'opportunità Una volta preso l'high ground in questo meta Dovete cercare di giocare Non dico safe, però Dovete fare molto attenzione a tutte le persone che vogliono provare a contestarvi AIG, ok? Perché sostanzialmente In questa situazione È molto facile vincere una partita dall'high ground, ok? Però, a sua volta, è molto facile anche perderla Perché ci sono, ad esempio, team inesperti Che, una volta posizionati in high ground Tendono a overpiccare un pochino troppo Magari si fanno sniperare o si fanno laserare E a quel punto vengono contestati, ok? Quindi fate molta attenzione a questa cosa che vi ho appena detto Cercate di non farvi sniperare Giocate un po' più safe Ovviamente una volta in high ground Dovete provare a prendere più kill possibili Soprattutto se, vedete, vi trovate in una situazione come la nostra Dove arriviamo in AIG con zero kill effettuati durante tutta l'intera partita Considerate che questo era il nostro game Il nostro, se non erro, ultimo o penultimo game Che era importantissimo per arrivare a fare la top 83 Per prendere, appunto, punti di power ranking Però, comunque, al di fuori di questo Ovviamente ogni situazione è, come dire, unica a sé Ecco, cercate di fare attenzione Perché attualmente, quando vi trovate in AIG Siete davvero al centro del mirino Non di tutti, ma quasi Come vedete qua, noi come squadra in AIG Stiamo cercando di focussarsi su tutti i potenziali team Che magari potrebbero contestarci AIG nel breve termine, ok? Come si fa a capire, effettivamente, quali sono i team Che potrebbero contestarvi nel breve termine? Lo capite perché sono posizionati subito sotto l'IGROND, ok? I cosiddetti team second AIG Sono effettivamente quei team Che potenzialmente potrebbero contestarvi a breve, ok? Come ad esempio il team di mattone qui sotto Insomma, il team qui di mattone sulla destra Logicamente questi sono i team Che potenzialmente potrebbero contestarci Infatti, come vedete, li andiamo a spammare subito Per creargli una situazione di difficoltà e di pressione, ok? Per cui il team è costretto a dire Scendiamo di un layer, abbassiamoci L'AIG è troppo forte ancora Sono tutti vivi Saranno probabilmente full vita Non possiamo contestare E questo è molto importante, ok? È una sorta di pressione continua Che chi ha in AIG deve essere bravo a fare Per far sì che i team sotto Non tendano ad avere neanche la minima idea Di provare a prendere AIG, ok? Questo è importantissimo Al di fuori di questo, come vedete È stra-importante continuare a spammare Cioè, proprio ogni colpo che avete a vostra disposizione Dovete spammarlo In questo caso, purtroppo, io e Kiri Il mio compagno Avevamo un fucile d'assalto Con davvero pochi colpi rimasti E a nostra volta L'Ori invece Non era riuscito a prendere più di tante kill Perché stava giocando con un P90 Che, da una posizione di AIG È difficile utilizzare per fare kill Però, al di fuori di questo Si è riusciti comunque Diciamo, a gestire l'Aigron Nella maniera migliore La lobby non era molto Diciamo, complicata Però, nonostante ciò Ecco, ce la siamo gestiti molto bene E nel caso se... Mi raccomando Se avete altre domande più specifiche In merito a questo argomento Domandatemelo senza problemi nei commenti E magari io mi prenderò anche Altri video per rispondere a queste domande Ecco Ho intenzione di portare più video In merito a come effettivamente Giocare determinate situazioni di torneo Perché effettivamente ho visto che Episodi del genere piacciono molto E sono anche davvero molto interessanti Di per sé il game qua Come andrà a finire? Adesso, chiaramente, vedete Io arrivo in una situazione in cui Sono il player che decide di andare per il off Come vedete siamo 6 alive Quindi ci aspettavamo magari Un 3 contro 3 Oppure un 3 V2 V1 E in questo caso mi faccio dare le splash Dal mio compagno Lory E dico, ragazzi, io gioco per il off Cosa significa? Che sono il player che rimarrà per ultimo A cercare di rimanere in vita, ok? Cioè, cercare di, appunto, il offare la zona Quindi cercare di curarmi Una volta che la zona sarà chiusa Lory va giù per la kill E praticamente ne nocca uno Fa 191, 180 Rimaniamo io e Kiri 2 V2 praticamente Perché in questo momento viene noccato dalla storm Uno dei bersagli sotto Uno degli avversari In questo momento io dico A posto Kiri Tu spostati Qua riesco a dinkare uno in salto Kiri muore Io mi sposto un attimo per laserarli E la porto a casa Senza nemmeno utilizzare le cure Però come vedete nel caso in cui loro Avessero appunto avuto cure Preso la kill di Kiri in anticipo Eccetera Io mi sarei potuto curare tranquillamente Perché mi sono appunto spostato dietro Però come avete visto Diciamo che i punti principali Ve li ho un po' spiegati durante l'intero video Quindi mi raccomando High ground in 50 Nel caso lo prendete Se ne avete la possibilità Se ad esempio è vicino a voi la 50 Se potete rampare sopra il team in AIG Eccetera Mentre invece per quanto riguarda la moving Dovete per forza o laserare o sniperare Uno dei player che si trova in AIG Oppure fare una triple bouncer play Quindi in tre magari provate a prendere AIG Con le bouncer Anche se attualmente non è molto efficace Perché è molto facile Essere laserati Se utilizzate le bouncer Detto questo ragazzi Io vi ringrazio per la visione Vi auguro una buona giornata a tutti Vi invito a lasciare un like A seguire la pagina In più mi raccomando Lasciate nei commenti anche Magari qualche Come dire Qualche domanda Che vi vorreste una risposta Nei prossimi video Vi ringrazio Auguro di nuovo a tutti Una buona giornata